Ci sono 15 giorni di tempo per segnalare all'amministrazione comunale i danni provocati dall'incendio dello scorso primo agosto. Approvato dal comune già dal giorno successivo lo stato di calamità naturale. Possono presentare istanza, si legge nell'avviso, tutti coloro che hanno subito conseguenze al patrimonio edilizio, alle attività economiche e produttive e al patrimonio pubblico. Il sindaco Carlo Masci. Domenica pomeriggio sono stati interessati 37 siti in Abruzzo dalle fiamme. Certamente quello nostro della Pineta Annunziana, la riserva integrale della Pineta è uno dei siti più importanti. Credo che ci siano tutte le condizioni per avere il riconoscimento dello stato di calamità naturale, almeno a livello regionale. So che la regione è già intervenuta stanziando una cifra per l'emergenza. L'ipotesi secondo la quale le scintille di un treno o più treni in passaggio in quel tratto avrebbero scatenato l'inferno sembra plausibile. In questo caso verrebbe esclusa la matrice dolosa. Dal primo momento io ho detto di aspettare le indagini per poter dare giudizi sulle responsabilità. Oggi sta emergendo questa nuova ipotesi. Certo dentro la Pineta il fuoco è arrivato dopo essersi espanso nella zona di Fosso Valle Lunga ed essere arrivato fino sulla spiaggia. Mentre il fuoco imperversava, mentre i cittadini si trovavano ancora per strada con i secchi d'acqua, già mi sono cominciato ad arrivare immediatamente richieste di aprire un conto corrente da parte di persone che mi chiedevano se vogliamo partecipare alla ricostruzione della Pineta. Quindi abbiamo aperto un conto corrente con la causale legata alla rinascita della Pineta Annunziana. Un'iniziativa incomiabile. C'è molta gente che vuole partecipare. Devo dire che c'è una solidarietà incredibile. Questo conto corrente sarà gestito con la massima trasparenza nelle forme previste per legge. I danneggiati saranno risarciti. Questo lo potremo dire soltanto dopo che la Regione o il Governo avranno accettato lo stato di calamità naturale. Mi sembra che i presupposti ci siano tutti. Poi vedremo i prossimi passaggi amministrativi. Noi quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto immediatamente.